Si usa dire che l'ambito del cioccolato è conservativo, l'innovazione non esiste, tutti sono legati alla tradizione. Ovviamente come sempre non è del tutto vero, qualcuno ha provato ad innovare, Chox l'ha fatto, ha mescolato o meglio emulsionato l'acqua al cioccolato, quello che un cioccolatiere normale non farebbe mai, eppure funziona perché l'acqua è un esaltatore dell'aromaticità del cioccolato. Chox poi non contiene gran parte degli additivi che si usano oggi in eccesso, che siano conservanti, aromi, grassi idrogenati o quantità di zucchero, Chox non ne fa uso. E quindi ha fatto questa innovazione, questa crema, ma adesso ne ha aggiunto un'altra innovazione, che è un sistema di pastorizzazione ad alta temperatura per pochissimo tempo, che ha concesso a Chox, che è un prodotto da frigorifero e conservato sotto vuoto, di arrivare a temperatura ambiente. E quindi è uscito in questi giorni, attraverso la distribuzione di Yolanda De Colò, un prodotto in tetrapack, questo, che è un intermedio di lavorazione, dura un anno, può stare a temperatura ambiente. Bisogna solo decidere di provarlo, cominciare a utilizzarlo, inventare nuove strade, raccontarle, condividerle e poi scopriremo che l'innovazione anche nel cioccolato esiste.